e allora rientriamo per l'ultima parte è stato bello vedere le immagini di giocatori dell'Avellino non l'abbiamo fatto da studio voi da casa impegnati oggi nell'iniziativa organizzata dalla società per gli auguri di Natale una bella iniziativa allo store bianco verde noi rientriamo perché i giocatori domani partiranno mercoledì alle 15 giorno della vigilia di Natale io non lo ripeto più volte perché è un dato da sottolineare è vero i giocatori saranno impegnati in campo domani ovviamente mercoledì ovviamente anche il giorno di Natale perché poi giocano anche il 28 quindi passeranno Natale sul campo ma loro lo fanno di mestiere sono professionisti e incommiabili tifosi che anche il 24 saranno a seguire la squadra al provinciale di Trapani andiamo a vedere tutto quanto il prossimo turno prima di parlare di Trapani-Avellino si gioca Crotone-Frosinone il lunch match della vigilia quindi se la vigilia la passate a pranzo accenete il televisore c'è Crotone-Frosinone a mezzogiorno e mezza alle 15 Bologna-Provercelli, Brescia-Bari, Carpi-Perugia, Cittadella-Catania-Latina-Virtus-Entella-Pescara-Varese-Spezia-Virtus-Lanciano-Ternana-Modena-Trapani-Avellino-Vicenza-Livorno Raniero, guardiamo un attimo questo turno, noi ce l'abbiamo ancora sul preview, voi lo vedete nel monitor alle mie spalle al di là, al netto di Trapani-Avellino che turno è? è un turno un pochettino diciamo equilibrato anche perché vedendo un Carpi-Perugia che è una partita importantissima anche Spezia-Lanciano non è da meno anche perché sono entrambi i nostri punti infatti la seguiamo molto da vicino questa partita e io vedo anche questo forse un turno agevole per il Bologna in casa con la Provercelli ma la Provercelli ha dimostrato di essere squadra coriacea anche se soprattutto in casa per il Frosinone non sarà facile la sfida di Crotone infatti il Crotone ha bisogno di punti, deve uscire da quella zona anche perché in questo momento deve fare punti per poter ambire alla salvezza il Crotone non sarà facile sicuramente, anche per il Livorno non sarà facile a Vicenza questo ti voglio chiedere, questo Vicenza-Livorno, a parte che io ti ferò per il Livorno perché ormai ho questa scommessa che non voglio perdere con Cristoforo Barbato se il Vicenza arriva nella parte sinistra della classifica mi tocca offrirgli la cena viceversa se il Vicenza arriva nella parte destra però il Livorno non sarà un compito facile non sarà assolutamente facile però è una mina vagante questo Vicenza si è vista da Avellino e si è vista la partita scorsa possiamo dire che per il Latina invece sarà l'ultima chance in casa contro la Virtus Sentella di dare una svolta a questo campionato finora assai deludente? a gennaio potrebbe smantellare la squadra e prendere altri calciatori visto che hanno degli ingaggi molto elevati e la classifica è molto deficitaria sono due cose contrastanti questa è la cosa strana il Latina smantellerà la squadra quindi prenderà dei giocatori appena per tentare la salvezza o manterrà questo organico importante sperando di fare un filotto di vittorie e di rilanciarsi? eh ma se farà il contrario però scenderà di cattedra e retrocederà che fine farà il Latina? secondo me non si iscriverà nemmeno al campionato per tutti gli ingaggi alti che ha il Latina in questo momento è sicuramente la Latina che è una squadra importante a cominciare ingaggi a cominciare da Beretta che è stato esonerato l'ex allenatore del Siena ma ha giocatori di primo livello Valiani, Viviani lo stesso Sforzini che giocava con l'Avellino insomma Paolucci Paolucci è una squadra incredibile vedere la Latina laggiù è molto strano questa è la legge del calcio non servono i nomi a volte per poter vincere il campionato e lo dimostra il Carpi che sicuramente è una buona squadra un buon centravanti che è Gerry Mbacogu però è una squadra sicuramente non da prima in classifica eppure Castori sta facendo bene che se ne dica di questa allenatore infatti dopo la sconfitta di Avellino non so che cosa sia successo al Carpi diciamo che il Carpi ha avuto un'evoluzione dopo la sconfitta di Avellino l'ha fatto bene diciamo che quella sconfitta fu pure immeritata perché l'Avellino vinse di misura ma difendendosi il Carpi fece una signora partita viceversa è toccato al Bari che dopo la vittoria contro l'Avellino ha subito una netta involuzione infatti sono le due cose contrastanti il Carpi e il Bari il Bari ne ha perse tutti invece il Carpi ha fatto tanti punti e è arrivato prima in classifica diamo un'occhiata a questa classifica io direi che forse fino al Bari oggi almeno a 180 minuti del giro di Bova del giro in età andata si può parlare di playoff dal Pescara in giù per il momento debbono prima anche se ci sono squadre dal blasone importante come la Ternana come il Catania come lo stesso Latina debbono guardarsi prima di tutto le spalle sì ma poi il girone di ritorno è un'altra data abbiamo visto già i nostri 37 punti poi non siamo riusciti ad entrare nemmeno nella griglia playoff la Bellino aveva fatto 37 punti nel giro in età andata quest'anno siamo a 29 ce ne sarebbero 6 disponibili al massimo facendo bottino pieno come tutti si augurano al provinciale di Trapani mercoledì e poi sabato prossimo in casa contro il Brescia io metterei la firma per 3 barra 4 punti Raniero penso 4 4 vanno benissimo un bel pareggio a Trapani che ci sta tutto poi una bella vittoria contro il Brescia siamo 33 a 4 punti dal bottino dello scorso anno l'Avellino che si garantirebbe mezza salvezza e che potrebbe dare un occhio ai playoff sicuramente più l'occhio ai playoff che alla mezza salvezza direi sì sicuramente anche se resta sempre il primo obiettivo parliamo di questa sfida tra Trapani e Avellino la sfida del provinciale Rastelli recupera elementi importanti Raniero che partita ti aspetta? ma l'Avellino a Trapani ha fatto sempre ottime gare anche nella partita che abbiamo perso nei playoff in Serie C2 contro il Trapani l'Avellino fece una grande partita infatti sul risultato di 3 a 2 abbiamo avuto paura in tribuno perché gli animi si sono accesi e pensavano che l'Avellino riuscisse ad arrivare al pareggio e si sarebbe cambiata la situazione Avellino che poi ha perso anche l'anno successivo per 3 a 1 al provinciale di Trapani insomma un campo ostico un campo difficile tu ci sei stato quanto influisce su quei tipi di campi la passione, il calore dei tifosi forse molto più che al partenio Lombardi perché te li senti proprio vicini al campo? sì, lo stadio è stato costruito in maniera diversa rispetto ad Avellino anche perché il pubblico è molto caloroso se andiamo a vedere con l'ultimo restyling che hanno fatto hanno messo proprio le curve dietro la porta prima erano un pochettino spostate la curva del Trapani era spostata sul versante destro dello stadio non era al centro della porta adesso si sono spostate dietro la porta per poter dare maggiore supporto ai propri calciatori proprio su questo che ne pensi? dell'idea di Taccone, di presentare un nuovo progetto per lo stadio di Avellino o di rifare uno stadio di Avellino? questo non può far che bene alla città, alla provincia e tutti quelli che seguono l'Avellino e che amano l'Avellino anche per tutti quelli che vivono fuori quando vengono ad Avellino possono andare presso la cittadella dello sport che vorranno dedicare ad Avellino e poter far sì che stanno a casa loro nella propria città, con i propri colori Danielo, te la senti di fare un pronostico su questo della Pani Avellino? domanda a un milione di dollari io sono molto fiducioso l'Avellino potrebbe vencere anche 2-1 a Trapene ecco, questo è un pronostico importante chi se lo dovesse giocare e magari se dovesse andare bene ricordatevi che il pronostico ve l'ha lanciato Raniero Biancardi da Mediatre nella nostra trasmissione io direi che anche 1-0-0 ci potrebbe accontentare visto il periodo dopo la vittoria col Bologna ma ovviamente noi tifosi coriacei vogliamo sempre vedere l'Avellino vincere in quanti saranno al provinciale di tifosi? ma io credo una buona fetta di tifosi di quelli a Canite e a Lavellino saranno a Trapene la nostra amica Angelica sicuramente stanno preparando un pulma stanno preparando, sì con Angelica mi sono sentito e ne abbiamo parlato subito dopo la partita già sta organizzando il tutto per poter andare giù a Trapene voi invece come club tagliaferri difficilmente seguite Lavellino in trasferta almeno in quelle più lontane? no, a parte gli impegni familiari quando ci sono impegni familiari che non ci possiamo andare Lavellino la seguiamo e ci andiamo pure siamo 8-9 persone che la seguiamo in ogni parte quando c'è stato possibile poter andare in trasferta diciamo che il 24 dicembre anche se la fede per Lavellino è importante c'è sempre un occhio in più per la famiglia non è nemmeno l'occhio in più per la famiglia ma comunque sono impegni perché io devo andare fuori regione non posso nemmeno stare qua e quindi devo seguire la famiglia fuori regione per poterci stare a fianco sicuramente allora noi siamo arrivati anche stasera in conclusione del nostro appuntamento con un lunedì da lupi che torna al solito lunedì prossimo alle 21 per l'ultimo appuntamento del girone d'andata poi ci fermeremo come abbiamo già fatto con tutti in piazza per un po' di restyling per prenderci qualche settimana ovviamente torneremo con il ritorno del campionato per rimetterci a posto rimetterci in moto e offrirvi una trasmissione sempre migliore con tanti accorgimenti nuovi e tanti dettagli sempre più curati intanto io vi volevo ringraziare perché ci seguite sempre più numerosi con la solita pazienza alla solita bontà e ci date tanti attestati anche attraverso la nostra pagina Facebook e quant'altro tanti messaggi di affetto tanti attestati di stima che ci spingono ad andare avanti e a darvi un servizio sempre migliore ad essere sempre più vicini ai tifosi io ringrazio Raniero Biancardi per essere stato con noi stasera per anche in questo 22 dicembre essere stato qui al freddo nei nostri studi per parlare di Avellino grazie grazie Raniero ovviamente noi cercheremo al più presto di essere noi ospiti della Nero Biancardi al club Tagliaferri di Altavilla seguiremo se non quella del 24 di Trapani Avellino seguiremo sicuramente una partita inizio in girone di ritorno cominceremo un giro nei club della provincia andremo a vedere l'Avellino insieme ai tifosi veri insomma saremo sempre più vicini ai colori bianco-verdi intanto ringrazio anche Sasa Ammarra che è stato ospite nella prima parte di un lunedì da lupi lunedì da lupi che vi dà appuntamento al lunedì prossimo intanto però insieme a Raniero insieme a tutto lo staff di Media3 insieme a tutto lo staff che cura la trasmissione un lunedì da lupi e quindi con Mario Ferdinando in regia Matteo Piscopo alle camere al supporto tecnico vi anche ovviamente con Adele Panza vi facciamo i nostri migliori auguri di un buon Natale un Natale sereno un Natale con le vostre famiglie ma anche un Natale bianco-verde con la famiglia bianco-verde sperando che i lupi sappiano regalarci anche il 24 dicembre e anche il 26 e il 28 una gioia importante due gioie importanti e ci possano proiettare alla fine del giorno dell'andata in una posizione importante di classifica grazie ancora a tutti voi buon Natale auguri ci vediamo lunedì prossimo con un lunedì da lupi sempre qua sul canale 608 del Digitale Terrestre auguri grazie a tutti grazie a tutti